Pyeongchang 2018, pattinaggio figura, team event, Italia settima dopo prima giornata Sul ghiaccio della Gagnon Guys Arena gli azzurri chiudono con 10 punti dopo le prime due gare. Quinto posto per Matteo Rizzo nel corto maschile artistico. Settimi nel corto coppie, invece, Nicole della Monica e Matteo Guarise. Guida la classifica il Canada. Pyeongchang sul ghiaccio della Gagnon Guys Arena lItalia danza per il team event del pattinaggio di figura. Buone le prove degli azzurri impegnati nella prima giornata di gare. Matteo Rizzo ha chiuso il programma del corto maschile artistico al quinto posto con 77.77 punti, 40.60 di elementi tecnici e 37.17 per le componenti del programma, portando 6 punti allItalia. Nicole della Monica e Matteo Guarise, invece, ha chiuso al settimo posto con 67.62 punti, 35.73 di elementi tecnici e 31.89 per le componenti del programma, il corto coppie. Comanda il Canada dopo le prime due prove gli azzurri hanno totalizzato 10 punti piazzandosi al settimo posto nella graduatoria generale, al comando c'è il Canada con 17 punti davanti a Stati Uniti, 14 punti, Giappone e OAR, atleti olimpici russi, entrambe con 13 punti. L'Italia tornerà in gara nel team event domenica 11 con il corto femminile, il corto coppie danza e il libero coppie di artistico.